Nell'ambito del PMI Day Industriamoci, iniziativa promossa da Confindustria è nata con l'obiettivo di favorire l'incontro tra le nuove generazioni e le realtà delle piccole e medie imprese, si è tenuto a Trani un convegno dal titolo Made in Italy e Contraffazioni. Angela Zicolella. Una giornata nazionale promossa dalla piccola industria di Confindustria per valorizzare la piccola e media impresa locale, aprendo soprattutto ai giovani le aziende del territorio e che quest'anno ha voluto sviluppare un tavolo di dibattito sul problema della contraffazione del Made in Italy. È la decima giornata del PMI Day, il focus da un po' di anni è quello della lotta alla contraffazione, vogliamo sensibilizzare i giovani a questo fenomeno, alla lotta alla contraffazione, al fenomeno anche dell'Italian Sounding che è un altro danno incredibile all'immagine dell'Italia. Presenti molti giovani delle scuole superiori della provincia che dopo la conferenza si sono recati in visita nelle aziende Mucci Giovanni di Trani e Petzol Industries di Barletta per ascoltare l'esperienza degli imprenditori e le soluzioni adottate per difendersi dei falsi. L'Italia infatti è il paese europeo più colpito dal fenomeno della contraffazione, con un mercato del falso che supera i 7 miliardi di euro, danneggiando soprattutto i piccoli imprenditori. Un problema che colpisce anche le province di Bari e Bat, con ben 363 interventi della Guardia di Finanza negli ultimi 10 mesi e oltre 10 milioni di beni sequestrati, soprattutto prodotti elettronici o capi d'abbigliamento. I dati al 31 ottobre ci dicono che in oltre 360 interventi condotti dalla Guardia di Finanza sul territorio delle province di Bari e Bat oltre 10 milioni di beni sequestrati. Si tratta di abbigliamento e accessori di moda, prodotti e beni di consumo, prodotti di elettronica ma anche tanto agroalimentare. Sono settori ovviamente che colpiscono in modo particolare le piccole e medie imprese di questo territorio e quindi la nostra azione è costante e quotidiana a contrasto di queste forme che creano danni economici importanti alle imprese di Bari e della Bat. La giornata di oggi è importante perché ci consente di sensibilizzare su questo fenomeno che danneggia innanzitutto i consumatori utenti finali, ma come dicevo precedentemente creano dei danni milionari alle aziende che investono in ricerca e sviluppo, nella reputazione del marchio e che ovviamente la contraffazione va a danneggiare. C'è poi tutta una filiera criminale dietro questi fenomeni che comportano con sé ovviamente evasione fiscale, lavoro nero, lavoro irregolare, alcune volte traffico di immigrati, basti pensare a quello che succede da qui a diciamo che succede nelle campagne con ovviamente i fenomeni di caporolato e quant'altro e alimentano ovviamente una filiera criminale che trae enormi profitti da questi fenomeni di contraffazione.